Non voglio fare la spia sul conto del mio caro amico T-Rex, ma devi sapere che ha lasciato cibo ovunque. Di nuovo. Ci penserò quando avrò finito. Non credere a niente di quel che dice quel Pegasus ficcanaso. Non credo a niente di ciò che dice ognuno di voi. Ho intenzione di attaccare qualche pony nel prossimo futuro, altrimenti non capisco perché sto perdendo il mio tempo qui. Sono una regina, non scordarlo. Bene, vado. È evidente che qui è impossibile portare a termine quello che devo fare. Vi suggerisco di arrivare tutte e tre a un qualche compromesso. L'elepio di un'elepio! Non mi interessa come, ma dovete imparare a fare un lavoro di squadra. Solo allora potremo riuscire nell'impresa che tanto bravate. La sconfitta di Twilight Sparkle e delle sue amiche. Niente sprona al lavoro di squadra come uno striscione ispiratore. Quando Grogar lo vedrà, si rendirà conto di non poter più andare avanti senza di più. Dovrai allenarti tanto per tornare come quando avevi assorbito la forza vitale di tutti quei pony. Comunque, Grogar vuole che collaboriamo, quindi ho fissato una riunione. Non ti sembra divertente? E dato che Grogar ha affidato a me il comando... No, non l'ha fatto. Qualcuno qui è proprio un bronciotauro oggi. Se non facciamo la riunione, magari posso rimanere qui con te e offrirti il mio supporto. Bene, verrò alla tua riunione. Ora vattene. Ci vediamo tra poco. Sono passate settimane e Grogar non ha fatto niente. Non è salutare tenersi dentro tutta questa rabbia. Potrei esplodere da un momento all'altro. Come fai a gestirla così bene? Come credi che stia facendo? Sono pronta a esigere la mia vendetta. Sai cosa intendo? Stare chiusi qui senza fare niente è orribile. Sai cosa ci vuole? Una bella riunione. Io non partecipo alle riunioni. Grogar ha affidato a me il comando. No, non l'ha fatto. E anche se fosse vero, Crisalis non impedisce a nessuno. Ci saranno dei cupcake. Grogar vuole che collaboriamo per battere i nostri nemici. Significa che dobbiamo fidarci l'uno dell'altro. Se vogliamo fidarci l'uno dell'altro, forse conviene spiegare al Lord T-Rex che non deve cercare di assorbire la mia essenza. Io non ho cercato di fare nulla del genere. Che faccia tosta. Faccia tosta io? Ho idea di chi sia la qui presente? Come potrei scordarlo? Lo dici al tuo tronchetto ogni cinque minuti. Ecco perché Grogar ha affidato a me il comando. No, non l'ha fatto.